Musica Eccomi al mio appuntamento quindicinale a questa trasmissione Oggi parleremo del movimento le gilet jaune, cioè i gilet gialli che per quindici giorni hanno tenuto il fuoco acceso su questo problema Le gilet jaune è stato un movimento nato sui social, soprattutto attraverso Facebook e il principio, il motto scatenante si dice è stato quello del governo Macron di aumentare il costo del carburante, in questo caso il gasolio, di 0,15 centesimi il litro Per finanziare, questo dice il governo francese, per finanziare la riconversione ecologica del trasporto Questo però ha scatenato tutta questa serie di movimenti che sono iniziati da domenica 17 ma anche domenica 25 Cioè ieri, no domenica era sabato 24, sono sfociati anche in scontri a Parigi nelle Champs-Élysées Da notare che questi movimenti così spontanei che nascono nei social e non vogliono questi movimenti essere identificati con nessun gruppo ufficiale Partiti con niente di estrema destra né di estrema sinistra Nemmeno dal essere rappresentato dalle organizzazioni sindacali Questi scoppi sono sempre più frequenti, sono più vicini nel tempo In Francia un anno fa, chi si ricorda, nacque quel movimento lo stesso sui social Che si chiama la notte in piedi, la notte in piedi ma somiglia molto anche al CITAV Che è qui a Torino, ancora prima rimanendo sempre nel nostro territorio ai forconi Che hanno protestato più o meno nello stesso modo dei gilets gialli Questi movimenti sono spontanei ma sono la classica goccia che fa traboccare il vaso Nel senso che adesso io prego la regia di mettere in linea l'immagine Che voi poi potete anche trovare nel sito facebook gilets jaunes La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso Non sono le 0,15 centesimi la cosa scatenante Sì sono state la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso Ma in realtà tutta una serie di aumenti di tasse Che il governo Macron ha attuato in questo ultimo periodo Per esempio una che ha dato molto fastidio È l'eliminazione della patrimoniale per i ricchi E quindi i soldi che meno che possono entrare nelle casse dello Stato francese Vengono spalmate sull'intera popolazione E colpisce di più, è chiaro, i più poveri Che ormai non ce la fanno più Soprattutto anche le classi medie Che sono quelle che poi si stanno muovendo in questo momento Ma quello che dà più da pensare è che questi social nascono Cioè questi movimenti nascono così spontanei È una cosa che la stessa borghesia non si aspetta Non deve fare i conti perché non sa come affrontarlo Perché Macron dice con i suoi ministri Quindi discutiamone ma con chi discutono Visto che queste persone dicono di non avere leader Non hanno leader, non hanno gruppi in Parlamento Che li rappresentano e non vogliono questi nemmeno Essere rappresentati dai partiti eccetera Secondo i servizi segreti francesi hanno individuato i promotori Pensate bene, sono otto persone, cinque uomini e tre donne Abitanti della regione dell'Ile de France Tra i 27 e i 35 anni Tutti amanti dell'automobile Quindi ma non è, ricordo non sono gli 0,15 centesimi Che possono aggregare tante persone È la classica goccia che ha fatto a Toraboccare E Jacqueline Moulin ha collezionato 5 milioni di click su Facebook La petizione di Priscilla Ludovski ha raccolto circa 850 mila firme Il movimento senza leader è riversato in provincia Nelle zone rurali e nelle città medie Socialmente viene identificata tra la classe medio-bassa Che vive e è obbligato a prendere l'automobile Per andare al lavoro Quindi anche gli 0,15 centesimi Anche gli 0,15 centesimi che in realtà sono pochi Però sono soldini Allora Che chiave di lettura possiamo dare Io posso dare solo la chiave di lettura Che mi dà il marxismo Il marxismo è quella teoria storica Che è invariante Poiché in essa sono sedimentate Le conoscenze acquisite dalla classe proletaria E dalla specie umana Nel corso di vicende storiche lunghissime Fino a quando esisterà quindi il capitalismo Saranno valide le leggi socio-economiche Infatti questa è una legge Stiamo analizzando il movimento socio-economico Che sono state svelate dal marxismo Dalla metà del 1800 In quanto storicamente verificate Da osservazioni passate e presenti Quali sono queste contraddizioni La caduta tendenziale del saggio di profitto La sovrappopolazione La miseria crescente La concorrenza Non sono dogmi comunque eterni Ma acquisizioni conoscitive Cioè imparate Relative a un certo modo di produzione Sono dogmi relativi Veri e validi Fino a quando questo modo di produzione Esiste ed esisterà Questo modo di analisi Non è solo questa chiave di lettura Non l'adopero solo io Ma l'adopera anche E' stata adoperata anche dai L'adopero i borghesi Ma anche e soprattutto la chiesa Ne adopera Adopera questo metro di analisi Vi leggo un po' cosa dice il Corriere della Sera Mercoledì 21 novembre E' un'analisi che fa il giornalista Massimo Navarra Che dice Come spiegare la durissima A tratti violenta mobilitazione Dei gile gialli nel paese Che al capezzale del pianeta Ha chiamato a raccolta L'intera comunità internazionale Cioè questi qua protestano Sembra che siano anti ecologici Come comprendere il consenso popolare A blocchi di autostrade e raffinerie Nonostante che anche la Francia Continua a subire i danni ambientali Queste sono le domande che si fa il giornalista La popolarità di Macron subisce così un altro duro colpo Con questi movimenti Proprio in relazione a una delle battaglie più nobili Secondo lui Che sarebbe quella della battaglia economica Online Senza leader Senza partiti Scollegata dai sindacati e associazione A tuttavia cause più profonde Di una presunta insensibilità ecologica Le categorie sociali coinvolte Sono le più svariate sul piano economico Agricoltori Camionisti Pensionati Casalinghe E le più penalizzate Da un sistema di trasporti pubblici Che per quanto esteso ed efficiente Implica comunque milioni di spostamenti quotidiani Sulla gomma E quindi Continua Che Il giornalista Dicendo che Questo è un conflitto sociale Che si ripropone su temi ancora più sensibili Si pensi alla sicurezza e l'immigrazione Fra il politicamente corretto E i bisogni e le sofferenze di ceti più deboli Al senso della protesta dei gile gialli Si Gile gialli Scusate Si sovrappone dunque Una rabbia latente e profonda E non abbastanza diagnosticata Dal giorno delle elezioni di Macron Arrivando all'Eliseo Grazie al sistema elettorale Ma con una forza minoritaria Presa da subito A tenaglia Da populisti di destra e di sinistra Che soffiano sul fuoco Sia che si tratti di ferrovieri o insegnanti O infermieri In sciopero Sia che si tratti di automobilisti O fan del diesel Vabbè Lasciamo stare questo corollario Che dà alla fine il giornalista Però Anche il giornalista Si pone questi problemi C'è qualcosa di molto più profondo Che fa muovere Queste persone Infatti La manifestazione Che poi è sfociata Sabato A Parigi Proprio perché Era nata nelle periferie Che sono quelle Che soffrono di più Di questa contraddizione Che soffrono di più Perché sono meno servite E quindi E quindi pagano In qualche modo di più Le manovre Che il governo Macron Sta facendo E quindi hanno detto Ci riversiamo A Parigi Perché lì C'è il C'è il centro Infatti la prima manifestazione Del 17 novembre Aveva visto In piazza Persone In circa Seicento Città francesi E La La mobilitazione Ufficiale Cioè Quel flash mob Sembra sia stato Il rincaro Del prezzo Di carburanti Ma Generandosi La lotta Sono state messe In discussione Le troppe tasse Come potete Vedere Postate Sul 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 Sito Di Radio La diminuzione Dei servizi Sociali Interesse Verso Le città Medi E piccole Da Parigi Certo Che i partiti Di opposizione Stanno cercando Di cavalcare la protesta Anche se con Possiamolo dire Chiaramente con Magri risultati Almeno Per Per Il momento Che cosa Dice La leader Quindi Di questo movimento Ha una domanda Che Fatta Sabato Cioè Riportata Sabato 24 novembre Sulla Repubblica Dice Dietro al movimento C'è la domanda Del Giornalista Che Ane Ginori A Parigi Gli fa questa domanda A Jacqueline Morin Morin Dentro al movimento C'è di tutto Quale sarebbe Il denominatore comune? Vogliamo poter vivere Decentemente Con quello che guadagniamo Invece Lo Stato Fa Estorsione Attraverso Le tasse Cioè Quindi non è una richiesta Di cambiamento del mondo Del sistema Chiedono semplicemente Di poter vivere Domanda Chiedete meno tasse Ma anche più servizi pubblici Non è una contraddizione? Lei risponde candidamente Basta tassare i più ricchi Macron non ha aspettato Un attimo Per togliere La patrimoniale Fa presto A tornare indietro E dice Altra domanda Le Pen E gli altri dirigenti Politici Cercano di unirsi Al movimento E risponde Ognuno può partecipare A titolo individuale Ma non accetteremo Sigle di partito E ci stiamo organizzando Per presentare Un'alternativa Politica Nuova Ovvero Lavoriamo Alla costituzione Di assemblee Cittadine Assemblee Di società civile Abbiamo già creato Un sito E dobbiamo capire Come far funzionare Questo nuovo strumento Di democrazia Chiaro Questo strumento Di democrazia Loro lo individuano Nei social E vi do Prego la legge Di mettere anche In onda Quale sito Su Facebook Quindi Su questo sito Dove va Questa trasmissione Lo potete vedere E seguire un po' E' vero che ho scritto tutto in francese Ma potete Attivare anche il traduttore E quindi potete anche seguire un attimo La discussione E sentire cosa è successo Per quanto riguarda anche la quantità numerica di persone Che hanno partecipato sabato alla manifestazione Beh lì ci sono centinaia di video postati E come la polizia poi fra l'altro Inflessibile E anche bastonato Della gente Non aveva senso bastonare Perché era inerme Ed era lì Semplicemente anziani a protestare E potete farvi un'idea voi Di quanti erano o non erano presenti O se erano 12.000 Come dicono le Le cifre ufficiali del governo O se erano di più Non sta a me Giudicate voi E guardate un po' La cosa che è interessantissima Quindi di fronte A questo turbolente protest Il governo francese Si è reso disponibile al dialogo Continuo con gli appunti che avevo fatto Riscontrando però una certa difficoltà Nell'individuare un interlecutore Non avendo a che fare con un partito O un sindacato O con un leader Che al momento non c'è Dove sono le organizzazioni sindacali? E questo era un giornalista Del Rai News 24 Si faceva questa domanda Ma lo faceva anche rivolta Alle organizzazioni sindacali nostrane Italiane Rispondiamo che storicamente I sindacati sono incaricati Di controllare Le masse Soprattutto quando le mobilitazioni Registrano un impatto sociale Crescente Ma evidentemente Oggi tali organismi Cioè questi Gli organismi sindacali Sono in crisi E hanno sempre meno presa Nella società La Francia Negli ultimi anni Ha visto l'incendio delle banlieue Del 2005 Le manifestazioni contro il contatto Di primo impiego Nel 2006 Diversi scioperi contro la legge Comuri Del 2016 E ultimamente La lotta dei ferrovieri MoVimenti sociali Sindacati E studenteschi Di una certa portata Accompagnati Dalla mobilitazione Delle forze di polizia Che hanno scosso il paese Da un po' di tempo a questa parte La popolazione sta separando i rappresentanti del capitale dai condannati del capitale E la palude delle molecole instabili che sta in mezzo si agita rivendicando di esistere Cioè di non essere precipitata fra i dannati Questo è tratto da Questa piccola citazione Dalle bandiglie e il mondo Dal sito Quinterna N più 1 Il numero 19 Le proteste francesi di questi giorni Ricadono per certi versi Ricalcano quelle italiane dei Forconi del 2013 Anche in quel caso si hanno viste piazze Soprattutto quella di Torino Molto eterogenee per composizioni Rabbiose contro le tasse E il peggioramento dei livelli di vita Il malessere sociale Continua ad accumularsi E non trova sfogo Suscitando una certa preoccupazione Nella classe dominante Perfino Papa Francesco L'altro giorno ha aperto l'omelia Nella messa celebrata Nella giornata mondiale dei pioveri Dicendo che il grido dei poveri Diventa ogni giorno più forte Vuol dire che ci sono sempre più poveri Ma ogni giorno meno ascoltato dai ricchi Questo è classico della Chiesa Non rivendicare Ma del pietismo Cioè se io tu sei ricco Guarda in che condizioni vivo E dammi almeno le bricciole E non rivedere perché tu sei ricco Perché io sono povero Perché tu mi sottrai qualcosa Che rimanendo nell'ambito religioso Quindi che Dio ha messo per tutti Invece tu hai fatto Te ne sei fatto proprietà privata E adoperi la forza In questo caso dello Stato Per mantenere questa proprietà privata Vorrei vedere L'ho detto più volte Se il petrolio O la terra o l'acqua Il Dio Chi crede in Dio L'ha data in concessione a qualcuno O non è di tutti l'acqua Quindi come la terra è di tutti Ecco quindi questo è il modo Da Chiesa Un po' pietismo Tornando anche Oggi è stata un'assemblea Sindacale Sono partecipato All'assemblea sindacale Ma per esempio anche i vecchi rappresentanti C'è Romano Prodi Durante la presentazione di un libro Si è lamentata il fatto che in Italia Oggi tutto viene accettato Persino che l'operae guadagni Circa 200 volte meno del manager E nessuno si ribella Sembra quasi che i borghesi In questo caso i borghesi sarebbe Prodi Ma anche il Papa Francesco Invitino i proletari a sollevarsi Contro certi fenomeni Ritenuti da loro stessi Insostenibili Però E questo un Però come mai E dopo cercherò di spiegare Secondo il mio punto di vista Ma non solo il mio punto di vista Ma secondo come dicevo prima Nella logica marxista Che sia Riflessione Che sia la Calma piatta prima del tempesta Può essere meno Può essere Meno rivolte ci sono Più materiale esplosivo Si accumula Più forte Sarà il botto Ma questi movimenti E perché Perché come dice Marx La classe operaria Ha bisogno E quindi in questo caso anche la ribellione Ha bisogno di trovare La propria strada Ha bisogno di incontrare Quella Quella coscienza Una volta si diceva Del profitto Che coscienza Quelle leggi Del sistema di produzione Capitalistico Non si può che tornare In questa situazione Ecco perché Il movimento Di per sé E' sterile Se non ha parole D'ordine Di cambiamento sociale Di organizzazione sociale Come modo sociale Di produzione Diverso dall'attuale Diverso dalla proprietà privata Dei mezzi Di produzione E di scambio Altrimenti Ritorniamo Sempre Nel solito Ricadiamo Sempre Nel solito Giochetto Che poi Alla fine Può creare anche Delusione Il fatto Di non riuscire Ad incidere Nel cambiamento Di qualcosa E questo E' un argomento Di discussione Ma vorrei Di riflessione Più che di riflessione Vorrei semplicemente Finire Leggendo Con quello Che ha detto Un sociologo Nel Gazzettino Il 25 11 Ed è L'intervista Ad Alexis Spire Spire Un sociologo Dice Sempre a proposito Dei Gilelli Un movimento Trasversale Mai visto Ma senza un capo E' destinato A sparire Diciamo Senza Un'indicazione Precisa Più che un capo Alex Spire E' sociologo Del CNRS Se studia da anni Il rapporto Tra cittadini Con il fisco A settembre E' uscito Il suo Resistenze Alle tasse Attaccamento Allo Stato Edizioni Seul Le rivolte Fiscali In Francia Hanno una lunga storia Dice Eppure Il movimento Quello Dei Gilets Jeunes Finora Non si è mai visto Qual è la novità Non c'è Organizzazione Non ci sono Dietro Categorie Professionali Il movimento E' di un'ampiezza Inedita Socialmente E geograficamente Anche le rivendicazioni Sono molteplici Ma due Sono comuni No alle tasse Sui carburanti E no alla strumentalizzazione Da parte Di partiti e sindacati I partiti però ci sono In particolare L'estrema destra Di Marie Le Pen E la sinistra Radicale De Jean-Luc Melancon C'è una lettura Di sinistra Che interpreta Il movimento Come protesta Contro la soppressione Dell'import L'imposta Sulle fortune La tassa Che pesa Sui redditi alti E' una lettura Di destra Che vede invece Come causa Della rivolta L'esagerata Pressione fiscale Le due critiche Possono coesistere E' la glossa ambiguità Del movimento Alcuni punti Sono in comune Tutti Per esempio Sono stati Scioccati Dall'acquisto Del nuovo servizio Di piatti Di porcellana Dell'Eliseo Rafforza Il sentimento Che i soldi pubblici Sono mal spesi La protesta Diventerà sempre Più violenta E' difficile Prevedere Cosa succederà Di sicuro Senza Una struttura Non può funzionare L'organizzazione Via social network E' possibile Una o due volte Ma le violenze Sono per ora Legate soprattutto Alla mancanza Di organizzazione Il movimento in sé Non è contro Le istituzioni Nè contro la polizia Mi sembra più Fuori controllo Che violenta Ecco Non è contro Le istituzioni Non è contro Questo sistema E' contro Le esagerazioni Lasciatemi dire Questo Di questo sistema Basta riportarlo Dentro L'alveolo Ed essere Moderato Ed Ed essere Un po' compatibile Un po' meno esoso Ecco Nei confronti Dei Più poveri E più colpiti In realtà La chiave di lettura E' quella che Da voi o prima C'è un movimento Spontaneo Se non fa carne Se non fa proprie Le idee Che vengono Lanciate Da Le fa proprie Quello di un cambiamento Sociale Si finisce Finisce Misenamente E un sfogo E una protesta Abbastanza seria Riflettiamo un po' su questo Io Vi saluto Vi ringrazio Per l'attenzione Che Mi ponete Sempre di più E ci sentiamo La prossima volta Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti